Gli allenamenti a Fano stanno andando bene per adesso, diciamo c'è stata questa apertura del Comune di Fano di darci massima disponibilità e massimo spazio al circolo tennis, alla trave e quindi ringrazio il Comune di Fano per quello che ci sta concedendo. Chiaramente noi siamo, io l'ho sempre detto, la nostra è una società di Pesaro, noi siamo di Pesaro la speranza è quella di un domani poter tornare ad allenarci a Pesaro anche se comunque diciamo che ci stiamo tra virgolette abituando, cioè siamo molto ben accolti da queste città perché come ho detto anche in conferenza stampa quando purtroppo c'è stato l'inconveniente di non poter giocare al Vitri questo main round di Champions League c'è stata una massima apertura della città di Urbino c'è stata la massima apertura della città di Ancona, poi dopo noi abbiamo scelto Rimini perché comunque ci hanno dato tante garanzie, ci hanno dato tanta disponibilità però voglio dire, questo sta a significare che l'Ital Service incomincia ad essere appetibile come società il Calciacinco incomincia ad essere uno sport che inizia a piacere perché se comunque una città di Urbino, Ancona, Rimini ti chiamano quindi vuol dire che qualcosa, chiaramente io penso che comunque una giunta comunale sia molto attenta vede certi risultati, vede quanto pubblico ci sia, quanti bambini ci sono quindi per chiamarti, per far sì che dicano vieni a giocare qui nella nostra città sia una Champions, sia un eventuale campionato, quindi è un segnale importante per tutti noi Anche perché il Pala Campanara è un palazzetto bello, insomma, anche per gli allenamenti quindi è peccato che questa struttura non venga sfruttata dall'Ital Service È un palazzetto meraviglioso, diciamo che è uno dei palazzetti più belli di tutti i palazzetti di Calciacinque è molto ben strutturato, molto ben fatto purtroppo non abbiamo potuto giocare questa Champions al Pala Fiera perché è ex Pala Nino Pizza perché ci sono delle norme della UEFA, dei vincoli molto stringenti e quindi che fanno sì che ci vogliono gli spogliatoi di un certo tipo di tot metri quadrati, un grosso numero di spogliatoi quindi purtroppo non abbiamo potuto giocarla lì questa Champions se no probabilmente magari ci saremmo spostati al Pala Fiera e detto questo, per quanto riguarda invece il discorso campionato è una struttura adattissima per noi quindi ecco, è un peccato non giocare lì però ecco, ci sono state fatte delle scelte un pochino così con il comune però io ho la speranza, magari quella un domani di poter rientrare, poter rivedere l'Ital Service non tanto giocare, perché noi continuiamo a giocare al venerdì sera alle 20 al Pala Fiera, ma comunque potersi allenare nella stessa location non tanto giocare, ma comunque poter rientrare la stessa